Buonasera a tutti, anche se non c'è nessuno, ma va bene a questo. Ma stasera si va di fatto. Questo farò giusto a The Game. Qualcosa di tranquilla. Ok. Cosa prendere? Ho tentato sempre di giocare senza un top. Per quanto pare sempre viabile. Però non lo so. Andiamo un po' con me. Andiamo a Darius se non ciò vuoi di giocarci con me. Sì, a casa ci prendono, ci bannano Tenju. Che cazzo banna poi Tenju? Oh, prima scelta allora top. Buono. Non credo più sia il top, però... Mi sconvolge. Se fosse... Kaji? Eh, non è manco male. Beh. Mi manco così, non so. No, valutiamo. No, valutiamo. Valutiamo questo. Allora... 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 si cioè vinco io praticamente oddio a ver lui può counterare il mio stun ma lo devo anticipare quindi vedremo vedremo questa partita questo è troppo pushato che poi mi arriva il jank valutiamo come andrà finita la partita e troppi ospioni box e calista che combo è box e calista ah calista ci sta ci sta e poi c'è la nostra c'è la Samira eeeh Samira meh questa compa non è buona ma c'è la nostra c'è la nostra c'è la nostra si come tiratore ci manca poi dando magico ah ciao ciao non mi faccia fare degli scritti esattamente me lo devi spiegare devo metterlo per lì devo metterlo per lì rilasciato ho capito non è che è un po' vecchio da tutti quanti bello, bello, mi piace grazie 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 voluto la cazza è forte, mamma mia la hai disegno, mamma mia per i campi della nuova fammi da subito aiuti il jungle dentro i campi è un miner most mamma mia si, è la doppia v wow questa è già tutto va, capì dentro i campi no, è finito ok danni di fa però Grazie. 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 Allora posso bloccare, buono a sapersi. Ok. Posso bloccare lo scatto. Io quella non la posso aiutare. Però no. No. Armaturo. Ah, io ho questo in mano. Posso? Buono. No, no, lei è nuda. Se vi blocca vedete solo dentro. Ok. Grazie. Grazie. Ok. 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 Grazie. Grazie per il follow. Buonasera. Questa è la porta in questa streaming? Buonasera. Buonasera. Ah, vabbè, ci sta, dai. Buonasera. 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 la compa in realtà prima di stannarle poi faccio quella questa volta queste volte fisso pare il danno vabbè 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 imparerò come cazzo si chiama questo ricetto veramente vabbè 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 In Butten Ah, non c'era orno per prendere la torre. No, non c'è un tempo da andare lì. Non c'è volato. Qui ripelendo, non avrei fatto niente. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Più. Dove stanno i HGX? Non c'è nulla. Non c'è nulla. Ma vaffanculo. No, non me la butta. Vabbè. Io non voglio lei. ok ok mamma oddio ornellini giustamente vento potenziato mi conviene ma è attasticato c'è un po' di armatura questa cosa faccio vabbè la partita è un po' scompata voglio questo trago lo voglio serve come il pane bravi bravi di orna non temete ci faccio il drago a posto la notte mamma finito vabbè ora non ve lo fate il drago fate quindi tutto a posto povera aia aia guarda pur di ciao non devo guardarmi lo scorre adesso non c'ho voglia di morire ah si facciamo questo ma sta solo dai a push è una squadra ma che è non ci stanno la lista basta non posso fare niente aia che male mi prego calista oddio ho provato ok ok che noia ah mi sono andato che onoro boh ci sono stato per tempo dopo eh gg poverini non so come sia successo non si non devo saperlo quando ho avuto va bene ah no mi ha fatto sapere ok ci sono già come ho fatto top ah beh stavo contro il tank giustamente no giusto questo che mi hai già lo scambio se lo scambio cosa è questo 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 non so non so non so non so non so non so No, perché no da appena lezione? Ah, ii, 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 ii. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. 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 Ok. Yeah. 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 aveva ok è sbagliato io su di te perché in realtà progressivo vabbè vabbè all'inizio non c'era manco la v in realtà perciò muovendo me lo farò un attimo un po' di compere dicendo quindi mamma mia un po di popolo nel centro più odioso che esiste però vinto uno dei più di sicuramente aveva merito dopo in generale solo dito al culo lo so anche perché poi non è che solo ti può prendere da ronda ma anche quando si butta addosso è che poi esatte ma dietro poi tipo somma e si rallenta questa è la cosa brutta di questo c'è praticamente fai di tutto per cercare di vabbè si va bene anche diana va bene va bene va bene va bene anche merda un altro colpo bastava va bene master vai cerco te guarda ti dirò si sta affidando master quindi quindi ma infatti va bene va bene contro il timo loro va ben chiama se va bene contro il timo loro c'è manco un tank c'è a meno che questa si deve fare forzata un po di tank ma poi il fatto sai qual è che io pensavo che tu l'avessi uccisa avevo sbagliato a leggere e tu l'avessi uccisa e quindi stanno sull'ulù poi mi si è accorto che tu non ci stavi che invece loro entrambi poi rimane lasciata un cavo proprio la faccia dolore ok vabbè e risico il di team belle capo de capoccia o quello di cavara mamma è bloccato via da puntata una volta a valutti il tuo cosa ho accorto di questo a questa locale però segua il problema che secondo me come giocatore viene un problema presto sì sì no è bravo si deve dare tempo al tempo è bravo io glielo riconosco però se vuole il problema che la stampa quando esalta troppo il giocatore porta niente buono questo a l'ulù sta andando verso la cave per me pure di anno no no a morto mi mamma vorrei capire un attimo che cosa che non manco se usa volessi non vengono manga o livello 6 ma che parla ha bloccato nei mini a livello 6 di merda e usa quella mossa di merda di schifosa di vela ma come cazzo lo cagare questo? spangule allora un giù un barri mi problema mi problema che parla è diventato un problema lo vorrei anche diventare però sai com'è quella mi uccida ma questo è un piastre d'acciaio prima mi fai il corpetto o la spezza pasta? fatti sulle corpette e dopo ti fai guarda come spara mamma mia ammazzo mezz'ora da aspettare e poi ti fai a fare direttamente l'oggetto allora sono questi questo ottimo ottimo 3-2 no Diego devi fidare tu oh arrivò ma poi ma che è eh quella è tutta eh sì sì Diana ma l'ultimo car no ma come caspita no 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 entrambiano con le sciate ti preoccupa ma che andai già visto ma davvero tutto sta la cia quasi uccisa poi però si è messo ok vabbè la nostra riviera un attimo sì non era ok quindi non è un'altra però ma è tutto guardato gli emi non c'è l'altra quindi che sta Diana a casa ma che parte non sta ma penso che sta più no è venuta prima da me ho visto io prima ma però ah finalmente c'è la R oh wow 80 proprio sembri chiamati a scassare ambresso ma non ce la faccio in questa che oggi mamma mia no vabbè vabbè adesso ce la do per caso non ce la faccio non ce la manco manco l'icona quindi non avrei manco giustiziato dovevo fargli un po' di danno però ah ci la facevo oh mamma mia ok questa era non è partita tutta prima tutta la sparata vabbè infatti vabbè infatti si mamma mia regallo eh sì mi ricordo un po' di pochino a meno che fa vabbè 20 minon sotto però le placche con altre ok ci sta ci sta ci sta se può fa credo che siamo 9-4 che bello ah ottimo stanno ultimamente abbastanza bene loro stanno con le pezze a culo non ce ne priamo dammi come roma ne grab di una però aspetta 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 oh sta ulti di merda dico ma no aspetta non sto copendo niente no poi è è fastidio mamma mia madonna mi è cosa sono morto aspetta aspetta sono morto non c'avevo la cosa sennò bastavano due secondi e si ricaricava ah poteva andare a mo ho buttato adesso il flash gli face per questo è più che l'altro eh sì però amava vaffanculo ma che come cazzo mi ha fatto a colpire cosa è quello c'è il raggio del kid è morto ma no una doppia merda serafine perché cazzo i film diciamo che almeno gli fa cocco se lo serafine oddio no va bene serafine è un pezzo oh ma io non ci credo no no ma è affanculo sta facendo la ulti sbastarda oh ma perché continua eh lo so infatti non lo so però bra mamma mia infatti non vuole andarci lo seguivo volevo seguirlo per cercare perché ho visto che stava ah 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 le ho detto ma magari cerco di fare qualcosa le strunzi wow mi dispiace che ho buttato l'air perché è una strunza alzito prima di me va bene eh usa il flash sicuro sai che obiettivo no ecco qua i risultati i risultati vabbè 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 io ci rimango a questo punto perché riesco magari a prenderla anche se un po' oddio no no il problema è esatto si è questo no era attaccata al muro era attaccata al muro io ho fatto la E però quanto bella non era guai io farai in questo modo veramente cafone però il fatto è che si sono focussati su PNDC dimmi dimmi so ora ma aspetta we are se vengo bot tanto win more è un po' complicata vengo vengo tanto ma perco ma che parola cosa ci può stare oh qui dell'età ma non è difficile vieni qua vieni qua no la doveste fare ok la so che c'era la air lo so per me lo so per il gold per il gold scusa guardo vicino al suo cadavere perché lei c'ha la visuale qua no c'è queen c'è queen c'è queen c'è queen non c'è andata non c'è andata ah ok non me lo so sto nervando tutti quanti ecco oh merda ma perché sto sbagliando tutte io non vengo perché se non muoio eh vai giù però ci servessano ma ragazzi lo so però mi dispiace ma seri che vuoi da me guarda ma io non ho ingaggiato cioè io non ho ingaggiato ho messo il lume io non posso avvicinarmi veramente allora ragazzi fight non lo dovete inseguire tutti voi non lo dovete cagare fatevi fatti vostri ma che vuoi da me non ho capito è il tagli avversario comunque un po' d'altro parla lui che va a pushare sotto torre ad agali e lulu eh matto esattamente però questo è per il drago ma a buon mi sa che non ce la faccio eh no ma Ciro ah bu ah vabbè oramai tanto oddio non c'è fatto eh wow a me mi ho visto come si chiamai ok ma vedi ma vedi ma è un coglione un rincoglionito è un mongoloide cioè perché se mettono il lume là significa che stanno là io l'ho pure pingato è statiana merda sta qui bravo io un po' di fa un po' di vuoto quando si accerda come sta ah no bravo bravo lei sta aspettando gli otto di i dodici di ora bravo bravo quinta che mi ha pushata la web bravo la serve direttamente qua buonasera via te via te grazie senza che è stata non dire che ci stanno traendo loro che amma fa ah ragazzi si va bene no che brutta sera fino però deciditi un po' se fallo a cambiare ogni tre no ma se li fa un po' schifo ma io surrendiamo ma che cosa no no ma è troppo presto devi aspettare 20 comunque deve essere confident comunque un surrender basta ma vincimmi giustamente no affunculo a me questo mi piace cioè c'ha quel mezzo secondo da dire fatta che succede del mondo nel mezzo eh vabbè facciamo uccidere qui dai abumo perché io ho usato quella quando si è chiamato addosso no perché in due la facciamo uccidere un ah si 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 è vero è già un qualcosa eh ragazzi c'è un privo tanto attento attento c'è Kaisa mi viene male mi viene male mi viene mi viene ok ok no attacco però merda eh 8-0 bro win eh ho tutto d'oro l'ho bloccato eh no sto andando su di win perfetto per questo tempo perché win ha recuperato vita tramite la cessa però madonna ma poi all'ultimo se ne sono andato e la win si butta a capo e la win ammazzo bella parte di merda devo dire a cali e non la cediamo a cali a cali a cali il brun è che non so su questo però invece la masteria che ce la fai dai mamma mia vabbè attenzione è zitta ok oh non va butti addosso eh vabbè eh no si ok sei passato il minuto 20 va bene non l'è già il gol di ah 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 non l'ho stato tutto comunque preso il bimino vabbè con le palle da sotto va bene ragazzi te stai classificati per piacere vabbè dai siamo delle pussi e non e giocavo alla norma a niente eeeh eeeh spesce 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 va cambiando spesce va bene va bene hai fatto support support con vex support con vex io non ti piace vex support no e comunque che credite questo gioco dico quello per forza che vieni con mainboard vedi è romantico questo gioco è romantico è romantico oppure ci sta come support allora ho capone panter allora ti banniamo non lo so però io ho giocato di vero no no sono primo pick sono primo pick ma organa si va no vabbè che ti torno ma ma che culo che culo ma che culo vabbè ma sai che banda driven esattamente ma che aspetta allora noi giochiamo 100 molto bene no ma 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 vabbè sta master 4 no la master 5 devo prendere così almeno se prendo qualche che se non la butta nel cesso perché costi comunque no è un peggio che la butta tutto però qualissimo domani ma domani dovete uscire con la mamma della mamma esatta c'è pure l'amica vabbè domanda disinteressata giusto per no domani ecco ecco l'amica dove stiamo si dire che palle vabbè meglio si dire che Samira mi fa venire nervoso quando quando usa quella l'abilità per bloccare le altre abilità mamma mia eh non lo so quale non la gioco però eh vabbè pure lei blocca eh lo so pure lei blocca è vero però lei tipo lo fa a raggio ampio invece lei mi pare che si lo fa solo su di lei giusto eh si solo su di lei però sicura pure adesso prepara sicuro quindi le facciamo le facciamo le sbuccio le bucio allora ok bucio di culo fissa pareva l'overlay come al solito non si mette vabbè mi ha rotto i coglioni se sto discord di merda lui ha vero che va aggressivo amma bre pampo basta che non be che che l'accessi giù ma bann sempre eh gnar pure un po' riggendo però no no gnar però più meno no vabbè sì pure rilancia le cose lui va pure meglio contro i tank quindi fai tu guarda guarda anche io vengo a demacia guarda un attimo sto finendo occupato il bagno perché dove è in che regione monte targon è praticamente hai presente quella curva di shurima ecco devi andare tutta si ok ci sta su google maps eh sì 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 sei sicuro che stanno starà invece oi vuoi sbagliare da usare la master i4 se non si fosse capito vabbè io uso la master di pinguina se vuoi uso il pinguine stigo ma il verissimo sta lux ma usa la sua usa la sua prigione luminosa ma non lo guarda il fatto che tu sai i nomi dell'abilità mi spaventa sempre ah no 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 a terra ma quella buttata a fuori no volevo anticipare non è andato il punto giusto non è andato nella giusta traiettoria oh erano sblocco accusano poco compito con laia perché comunque non sapreste oh basta questa cosa ok lux ma secondo te non te vedi che cosa ecco ha usato la prigione luminosa ha usato la tua prigione luminosa ma quanti ribalti fa questa abilità non ha limite ah quindi finché trova non mi ricordo o non c'ha limite o massimo 7 buona ehi ma Dario si trovi una garanzia bella qualcuno ah ok 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 ah datemi andateci dentro questi mi date un po' di passino mannaggia la misera dateci dentro cioè andate dentro le mie abilità fatevi colpire sono vecchio sono vecchio decapito c'ho più il bastone guarda qua mamma veramente aspetta se c'è il bastone vabbè non lo trovo dopo Wyn praticamente è il vecchio che dà da mangiare i piccioni nel parco lo sai che certe volte mi inquietano i piccioni che stanno e che compaiono lungo la mappa c'è una volta mi cago sotto è bella signorina dei draghi perché sono i picchi tutti piccoli draghetti questo qua invece sono le colombe le colombe perché sei bianco sei uscito appena da matrimonio grazie per la passiva oh talon mi sa mi sa che no bravo bravo mannaggia la miseria va bene va bene va bene ottimo purtroppo non l'ho riuscito a bloccarlo perché stava un po' strana ecco i colombe mi hanno fatto cagare su tutto pensavo che stava tornando qua questo è un colombo che si era appoggiato pensavo questo è il fatto di da ha fatto il fatto della guai tu dici anzi è pericoloso in realtà volevo flashare sul civile e mettere il poi ho visto che hanno detto mi sa proprio che non è cosa altrimenti ci crepo l'inferno per farmare l'inferno non c'è la mano ok oh Diego ok ok no pensavo che ti stava andando a colpire no ma non c'avevo la mano quindi sarebbe dovuto andare a colpi base vabbè ci avrebbe messo un po' vabbè danno pure io danno perché anche perché da solo non serve a niente lavora da solo eh vabbè ma guarda se si compai ti sta parlando poco però con Swain sinceramente ok lo fa morire tipo c'è che qua siamo giustamente restiamo in un'arena in un campo da battaglia lui invece cammina come se non viene potesse un cazzo si i muri non esistono ma è la mano che comanda i piccioni ah si è la mano del demone la mano del piccione oh no 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 ragazzi ma manco sono venuto Giovanni va tutto scassato mi ha bloccato con prigione luminosa non male ecco era un'altra prigione luminosa facciamo le ombre combattiamo insieme una volta doggiata la cosa deluxe ecco così pensavo che ok facciamo la visione qua oh arriva 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 bella ho pure preso questione guarda là oh vai che innesse va qua è stata la lascia 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 non posso venire ho la R però eh la torre vabbè anche la buona distanza di swing è comoda proprio perché perdono pure nei fight certe volte fanno il giallo o anche per fottermi gli assist comunque non fight vai sempre bene ci sta nooo quanto ti rende non so 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 là non so me ne vado no sto scherzando vabbè ce dico non c'è bisogno hai visto? hai visto che ho qua? assist del derago guarda ti dirò, sta partita continuiamo questo 0-0 va bene no, l'aveva presa ma che palle si è meno che si è fatto un'altra i look sono capace da già visti per cento anni la passiva no, mi ha preso con la luce bloccante sono stato vittima della sua prigione in un minuto ragazzi acciderbolina è stato stradopi oh, bella mi ha anticipato eh vabbè vabbè va bene, va bene ah ma si è funzionante sta botta mamma mia oh oh ah non ci voglio credere però non ci voglio credere così comunque sta Dario sta c'è una figura di merda oh no dai vaffanculo oddio no non c'ho mana dai non c'ho mana non c'abbiamo le mani no Diego eh non ci stanno i minion eh lo so non c'ho manco mana e le mani però si le mani si c'ho i piccioni l'antipiccioni va bene va bene anche c'hai piccioni va bene ho finito il mano quindi non posso essere io merda eh mi sa mi sa mi sa mi sa babbo mh tanto gold c'ho guarda quel quel Dario sono realmente forte che per il minare si fa uccidere dalla torre giustizia la cosa più divertente no che arriva che il jungler mio si può uccidere nostro io dire scusa il nostro jungler viene e si può uccidere dal nostro top laner grazie per il follow hello silver 2 in fleck eh si silver 4 in in ordine giusto per fidare un po' insomma ah si eccomi guardi sono la mia spesa con i miei piccioni guarda sono più letale che mai gli capi in occhio con un picciono oh attenzione ok sta qua no ha fatto il piezzo no prigione luminosa mannaggia la miseria ciao bella 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 eh si siamo in 3 stiamo con il top laner wow che ca presa eh si un po' che c'hota la placca per ultimo cioè per un attimo ci sta ancora? no no sono finite cioè poco eh si ho visto vabbè vabbè oh ma come è nata la passia va bene ah ma è un attimo due lumini hai morto palle 70 gol Se fa game Che stazza quel game Vabbè Merdinger sta Nel chilling Merdinger non è andato Sta botto un po' Un po' piatta Ma come No Vabbè Onesto È un'ora top laner Perché c'è il minimo Ovviamente il sapo È stato un piacere E adesso Ogni quando